Buonasera ragazzi, siamo al nostro prossimo video che abbiamo fatto 10 minuti fa dove parleremo di tre fasi la prima fase è sulle news di youtuber, la seconda fase di altri giochi che usciranno e la terza fase è cazzo gioitare, cioè fuck time la prima fase è sulle news di youtube, come già visto c'è stato un rapimento di Lirewolf che è andata alla sabdoria fu giocatore stanno a destra e poi come si chiama FWG ha portato Outlast 2, una nuovissima serie che è già portato Outlast 1 due anni fa qui parliamo del news dei videogiochi nel news dei videogiochi uscirà COD3 dove il nuovo DLC scusate, World, World 2 dove uscirà il nuovo DLC con 8 mappe su Black Ops poi su Black Ops 3 uscirà pure Black Ops 3 uscirà un nuovo DLC con 9 e 8 mappe domani esce il 3 di World, World 2 e mi raccomando su Black Ops 3 uscirà la nuova mappe dove ci saranno 8 questo viene chiamato DLC e CDL e CDL uscirà il nuovo FIFA 18 e dove uscirà la nuova carriera questa carriera parla di una storia magnifica dove la natura prima muore e poi rinascia dove viene dato un budget un budget finanziare contro la banca contro i riferimenti dove questa carriera noi possiamo trasferirci in qualsiasi squadra in qualsiasi momento in qualsiasi periodo dell'anno e possiamo fare ci saranno 9 clausole prezzi di anni più obbligo di riscatto la Super League dove sponderemo i 100 milioni per ogni squadra e con tanti budget e stipendi altissimi dove quest'estate ci sono tanti tanti trasferimenti tipo quello di Pato quello di Hulk quello di Guain quello di Zapata tanti altri cicatri tipo il censo di pelle lo scavetto e poi passiamo alle news di Fat Time andiamo al Fat Time Laura ci chiede cosa vedete che abbi tonto? vedete che un mese è pronto quando ci vedremo al comics il 13 agosto del 2019 a Vasto dove saremo all'acqua di Vasto dove potevo fare filmare tanti autografi e tanti video stateci di perchè noi lavoriamo per voi e voi ci fate guadagnare basta questo basta che ci fate guadagnare noi siamo a posto poi Natale ci chiede Natale ci chiede Natale ci chiede quando quando penserete di venirci a trovare qui a Roma ci vedremo la settimana prossima perchè abbiamo un congresso con persone di ospedalini di qualcosa di avvocati dove all'università degli studi di Ferdinando II di Roma dove parleremo della seconda guerra mondiale e di tante cose scientifiche di tante scoperte geograficche che sono state fatte questi anni soprattutto dalla guerra fra un po' pom 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 e tra mi raccomando se lasciate tanti like e visualizzazioni noi faremo un nuovo concorso dove voi vi scrivete con email facendo dei quiz chi vincerà il quiz vincerà al primo premio playstation 4 con fifa 17 che poi GTA 5 e black ops 3 a costo di almeno 400 euro in totale secondo posto beats terzo posto Scaff in cui solo noi ce l'abbiamo perché noi siamo youtuber nazi per ultimo tastiera per i rapper in cui ha un costo di 100 euro e per lo special lo special chi vince tutto poi si può prendere tutti i premi insieme ad un abbonamento della playstation 4 per due anni di samsung è una tv samsung di 50 polish guarda si poi ci siamo scordati ci sarà un quiz speciale dove chi forse ha più mente chi è più intelligente potrà partecipare dove si vince una cosa in crociera data da lui con la con la con la stoccolma dove dove si parte da da bari da portiberi e si va dal bani a tanzania ciao a tutti ragazzi finisce questo il nostro video e ci vedremo nei prossimi giorni con un nuovo video dove porteremo il Manchester United video no 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 si è bloccato no 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 la salva no 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 cazzo bando a 5 minuti 29 no 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 Grazie.